Oggi dovevo pubblicare un video di un dipinto ad acquarello monocromo. Per oggi, facendo un grande disegno a penna, ho riflettuto molto su vostre considerazioni che fate e che mi stimolate nel pensiero durante i miei giorni che trascorro e in cui mi metto anche in discussione e ripenso a tutto il mio percorso e rifletto sul fatto che molte volte durante le live o nei miei video ho fatto cenno a un particolare tipo di approccio nei confronti del disegno e volevo chiarirlo una volta per tutte. Non metto a confronto la possibilità di dipingere o di disegnare dal vero, da una parte, contro il disegnare o dipingere da una fotografia. Cioè l'uno non è in contrapposizione all'altro. Però, quando io inizio a disegnare, quando inizio a fare un percorso di disegno, ho bisogno necessariamente, a mio avviso, di cominciare e di continuare in maniera abbastanza continua e in modo tenace con il disegno dal vero e poi la pittura dal vero. Perché questo? Perché noi abbiamo due occhi e abbiamo una visione binoculare. Questo ci permette di distinguere la distanza, di percepire la profondità. Quando io guardo un oggetto ne percepisco la profondità. So a spanne quanto esiste, quanto spazio esiste fra l'oggetto e l'oggetto che sta ancora dietro e l'oggetto che sta di fronte a me e me stesso. Questa mia visione binoculare mi consente anche di esperire, cioè di fare esperienza di visione e di soffermarmi sulle cose che vedo e su come le vedo. E noterò che vi sono delle diversità abbastanza forti fra la realtà o meglio, fra come noi percepiamo la realtà e come noi la guardiamo attraverso una fotografia. Innanzitutto noi dobbiamo far sì che i nostri occhi si muovano all'interno di uno spazio per poterlo ricostruire. Noterete che se noi focalizziamo la nostra attenzione su un piccolo punto, su un particolare, i punti attorno, le altre zone attorno ad esso non le percepiamo nello stesso modo, nella maniera così nitida e chiara. E poi, quello stesso punto lo percepiamo in maniera proprio nitida e chiara, in maniera totale? Oppure vediamo che i contorni a volte ci sfuggono e quindi abbiamo bisogno di osservare veramente molto bene per riuscire a distinguere un contorno, o meglio, il limite di un oggetto dallo sfondo o dall'altro oggetto che ha di dietro. Questo è interessante perché la nostra mente, nel momento in cui noi disegniamo dal vero, fa un'opera straordinaria, fa un esercizio straordinario che normalmente non fa. Cioè quello di notare molto bene come sono fatti i contorni di un oggetto rispetto a quello che ha dietro, la profondità, in maniera specifica. E quindi il dialogo fra la nostra mano, il nostro cervello e l'occhio che sta guardando diventa assai complicato. Ma è la realtà che noi vogliamo disegnare e dipingere. E perché proprio la realtà? Se io prendo una fotografia, quello che deve essere fatto è già stato fatto dal fotografo a da noi che abbiamo preso la fotografia. I contorni sono molto ben delineati e così anche quelli del video che state vedendo in questo momento per quanto riguarda le, ovviamente, le zone che sono in primo piano poi quelle in secondo piano vi appaiono anche un poco sfocate. Ma questo ovviamente a noi non succede. Succede perché è la lente della macchina sia da presa che fotografica che ci fa vedere le cose in maniera oggettiva dal punto di vista della macchina fotografica. Quindi mette tutto quanto in maniera bidimensionale. Quindi noi non possiamo fare altro che ricopiare senza nessun tipo di sforzo o di allenamento quello che c'è nella fotografia e riportarlo. L'esperienza dell'uso della fotografia nella pittura e nel disegno è molto importante e io stesso ne faccio uso e molte persone che dipingono ne fanno uso. Ma la cosa che io ho intenzione di dire e voglio chiarire fin dall'inizio è che questo discorso per me per quanto mi riguarda non vale se vogliamo iniziare a dipingere. se vogliamo iniziare a disegnare perché attraverso la nostra esperienza dal vero non copiamo più una fotografia che in maniera molto faticosa può riuscire a cavare il nostro segno. La nostra intenzione non è tanto quella di metterci del nostro mentre stiamo imparando a disegnare ma quella di copiare al più al meglio possibile la fotografia. Invece quello che noi facciamo dal vero oltre che a servirci per riuscire a imparare a disegnare e imparare a disegnare vuol dire fare sempre di più e sempre meglio ciò che la mano desidera fare e che altrimenti non saprebbe fare senza allenamento e senza tecnica. quello che io faccio guardando il soggetto dal vero è quello di ricostruire io il contorno sono io che disegno il contorno e decido qual è il contorno degli oggetti è molto sottile la diversità però è sostanziale e in quel momento lì quando io opero un disegno dal vero e io pongo il mio segno sulla carta è proprio in quel momento che io costruisco anche il mio segno da un punto di vista artistico ed espressivo io faccio due cose imparo in maniera faticosa a leggerle la realtà che ho di fronte però allo stesso tempo costruisco il mio segno personale sulla carta la copiatura di una fotografia all'inizio non mi serve per arrivare a questi miei due obiettivi quindi costa fatica costa impegno è chiaro che una scorciatoia sarebbe molto più utile e molto più semplice e magari anche gratificante però coloro che ascoltano questo video e vogliono imparare a disegnare e vogliono costruire il proprio segno continuino a guardare gli oggetti dal vero è difficile reperirli non importa basta anche un particolare basta anche che una persona possa anche posare per voi solo per un piccolo particolare ma è fondamentale che voi riusciate a capire la difficoltà di questo passaggio e capire perché c'è questa difficoltà perché noi dobbiamo ricostruire il segno che non esiste mentre nella fotografia è tutto delineato ma nella immagine che noi abbiamo dal vero si muove e ci muoviamo noi e si muove lei perché i nostri occhi si muovono e quindi la ricostruzione del contorno e della forma è molto più difficoltosa però ripeto è quella la strada per arrivare a avere più tecnica avere più controllo e poi ampliare le nostre capacità per arrivare al nostro segno e a svilupparlo nella maniera che noi desideriamo questo è quello che volevo dirvi oggi e spero che questo possa essere anche un argomento di dibattito un argomento di meditazione di riflessione e scrivetemi pure nei commenti cosa pensate di questo e poi magari ne parliamo assieme nella live di martedì sera martedì 19 settembre vi aspetto per la live e lì parleremo di tutto quello che io vi ho di cui vi ho parlato in questa in questo mio video perdonatemi se quest'oggi non facciamo l'acquarello monocromo però è solo rimandato e io vi prometto che continuerò i miei piccoli corsi di disegno e spero che siano utili e possono essere seguiti con piacere da voi vi auguro un buon weekend a tutte e a tutti a presto grazie a tutti